Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti, dai che si riparte insieme per un'altra settimana, quindi all'insegna dei numeri, delle estrazioni, dei consigli, soprattutto di Marco e di Lio, quindi attenzione così ci prepariamo per appunto i prossimi giorni. Allora ben ritrovato, caro come va? Perché scade il burro? Eh, tra poco! Tra poco, non l'ho controllato, mamma mia! Tra poco! Le altre cose non scadono, dai! No, scadono molto! Devi fare questa torta perché lo devi fare! È vero, è vero! Con te che ho comprato gli ingredienti? Eh, un po' se devi fare una torta di quelle alla grande, tipo una torta di Profiterol, un Monte Bianco, una pastiera napoletana, allora ci vuole un po' più di tempo, ma una torta come la devi fare? Io ho visto una intervista molto, o arrivarci a quell'età così, ma nemmeno io, eh, sono così lucida e bella arzilla, e certo un pericolo per lei e per gli altri, però lei mi sembra una molto a posto, sa fare la sua stradina, quindi non è che se ne va in autostrada a fare le gite, Però, vabbè, dopo parleremo perché sicuramente fa sorridere, la prima cosa che ti viene è sorridere e dire super nonna, super nonna, c'è il rinnovo ogni 10 anni, poi tra i 50 e i 70 ogni 5 anni, ricordatelo, Tra i 5, poi, dopo i 70 ogni 5 anni e dopo gli 80 ogni 2 anni, eh, dopo i 100 non si sa, perché credo che sia un caso unico e raro arrivare a 103 anni, no, che poi la macchina, scusa, automatica o con le marce? Perché anche lì, se tu mi dai una macchina con le marce, io già vado fuori, non so più guidare, quindi... Lei aveva la donna per quest'opera che ha sempre fatto, perciò, sì, chiaramente è raro trovare delle persone del genere, però... Allora, amici, è tutto per questa puntata, questa sera ci sarà un'altra alle ore 20, quindi buon pomeriggio e salutiamo, facciamo gli auguri a tutti i papà e anche alla signora...